Dall'8 giugno al 30 settembre oltre 200 eventi gratuiti per la promozione di una pratica sportiva inclusiva a tutto campo, finanziata dal Comune di Venezia grazie a fondi europei per 170 mila euro. Da un lato c'è Salta Corrisoga, 35 tra specialità sportive e attività motorie, con 122 eventi proposti da 57 associazioni, con discipline che variano tra gli altri dal calcio alla vogola Veneta, dal basket alla scherma, dal pattinaggio al karate. È un progetto che è arrivato al terzo anno e che vuole dare la possibilità alle associazioni sportive di fare attività sportiva nelle aree pubbliche, nelle aree aperte del nostro Comune. Questo per fare in modo sia loro di farsi promozione, ma anche per fare insomma promozione sportiva con i cittadini. Il progetto Sprint, acronimo di sport, partecipazione, relazione e inclusione nel territorio, è invece una novità dedicata a chi ha più di 65 anni e a persone disabili. 24 associazioni propongono 87 corsi, dal tennis alle bocce, dalla danza all'ippica, dalla ginnastica allo yoga. Cerchiamo insomma di coinvolgere queste persone in attività in maniera che durante l'estate possano passare qualche giornata, qualche ora all'interno degli impianti sportivi, quindi magari anche in un luogo sicuro, al fresco e magari anche insieme ad altre persone che fa sicuramente bene. Grazie a tutti.